ben trovati amici per la lettura dei quotidiani della calabria abbiamo preso la gazzetta del sud e il quotidiano dell'amico tabaccaio pietro pane di grano qui di via dei bizantini che ringraziamo per questa sua collaborazione andiamo alla prima pagina della gazzetta del sud di oggi sabato 11 ottobre incompiute in calabria che spreco la maglia nera va a cosenza seguita da reggio poi e viva valenza il ministero delle infrastrutture pubblica il report 63 le opere fantasma valore mezzo miliardo di euro poi ancora in prima pagina c'è questa foto gigante dove c'erano ci fu un omicidio in via delle vittorie qui alla mezzia si parla ancora del processo per sé o entrano in scena i tanti collaboratori di giustizia nel processo la mezzia parla il primo pentito dei giampa all'omicidio di domenico zagami nella foto nell'agosto del 2004 eravamo per le vigili di ferragosto la guerra giampa torcasio fece più di venti morti dice la gazzetta del sud poi andiamo scorriamo nel nella prima pagina della gazzetta del sud maltempo piogge alluvionali a genova e genova in ginocchio torrenti esondati danni ingenti e un morto mezza liguria sott'acqua polemiche sui tempi dell'allerta alla popolazione nella giornata di giovedì vedete un po le macchine tutte sobalzate dall'acqua in questa in queste davvero bombe d'acqua che ci sono si sono verificate su genova andiamo ancora avanti notizie di taglio basso malala e satiarti eroi di pace nobel lei pakistana lui indiano in prima linea a difesa dei bimbi la scelta di oslo attivisti di due paesi in perenne conflitto poi mini notizie sulla gazzetta del sud catanzaro io non pago e intendia il chiosco e viene arrestato poi medicina salute benessere alle ragioni del corpo squillace polpette avvelenate ancora strage di animale nella località e ionica catanzarese catanzaro per azione rinascita annullate 16 condanne passi in avanti per gli ops act applauso del quirinale e dell'fmi poi taglio alto ancora nel mirino don giacomo pizza il prete antimafia di lamezia terme ancora nel mirino sei attentati intimidatori in una sola notte la porta del centro d'accoglienza fandango danneggiata da un'esplosione a pagina 21 e 33 del gazzetta del sud siamo sulla prima pagina del quotidiano della calabria il pd ritrova l'unità e pensa alle liste si va verso il voto regionale primi obiettivi trasparenza e legalità centrodestra alla ricerca dell'accordo per il candidato oliverio taglia il nastro della sua segreteria con magorno e i renziani il partito democratico ritrova l'unità mario oliverio il candidato scelto per la corsa alla presidenza della regione calabria ha inaugurato ieri la sua segreteria insieme a magorno e ai renziani e il centrodestra cerca ancora l'accordo un articolo di bruno gemelli a pagina 6 la protesta corre slogan in piazza all'esercito degli studenti massiccia adesione alla giornata contro il piano del governo una manifestazione ieri degli studenti a cosenza nella foto di tosti genova ancora in base dall'acqua come tre anni fa in base ad acqua e fango morto e tante polemiche poi taglio basso lavoro e proteste precari pronti a bloccare villa san giovanni cresce il malcontento intanto viene riconvocata la cabina di regia cis le guilli hanno organizzato un presidio dagli imbarcadenti per mercoledì prossimo altre notizie la mezzi e processo perseo le rivelazioni del pentito a pagina 29 catanzaro incendio il chiosco dell'aranceto l'allarme ancora altre notizie sul quotidiano della canabria l'allarme aziende confiscate fuori mercato migliaia di posti a rischio l'università delle donne sul campo un articolo della giornalista anna rosa macri poi il caso lavori al lago ampollino lira di lega ambiente pagina 6 della gazzetta del sud sapete benissimo che a roma ci sono i lavori per il sinodo il sinodo dei vescovi continua con le novità in un clima di dialogo e calore ieri un messaggio appello per le famiglie di siria e iraq l'ultima congregazione interventi di vescovi 21 previsti 11 liberi per approfondire le diverse ipotesi pastorali vedete la gran bella foto dentro san bietro di tutti questi vescovi durante il sinodo il ragazzo seviziato a napoli migliora è uscito dalla rianimazione ha avuto un intervento di sette ore oggi l'udienza di convalida del fermo del suo aggressore l'orrenda vicenda di pianura la madre comincia a parlare a voglia di vivere e ridere stasera fiaccolata di solidarietà speriamo non succedano più questi fatti brutali ai danni di ragazzi non voglio più delungarmi la gazzetta pagina 12 andiamo sulla notizia il nobel di malaya a siete arti simbolo di pace di tenace difesa dei diritti dei bambini la pakistana e l'indiano dai saggi di oslo un forte messaggio a due paesi ancora in conflitto una ragazza di 17 anni fotografata durante la conferenza stampa di ieri e kalias satiarti 60 anni a new delhi un bambino un insegnante e una penna e un libro possono cambiare il mondo quanto dice malala continuiamo la gazzetta del sud pagina 21 andiamo alla cronaca alla mezza il sacerdote assiste gli svantaggiati bomba nel centro di recupero don panizza ancora nel mirino nella casa di accoglienza ospiti tre ex tossico dipendenti il sacerdote ripareremo i danni e ripartiremo al più presto un articolo di maria scaramuzzino bomba in piena notte alla mezza indirizzata al sacerdote antimafia panizza don giacomo panizza poco dopo luna è stata fatta scoppiare in via carnia nel quartiere bella siamo in una collina nord dell'ex comune di nicastro davanti alla casa protetta per osso ex tossico dipendenti gestite dalla comunità fandango che fa parte della grande rete associativa creata da don panizza con la comunità progetto sud fondata in città dal sacerdote bresciano nel 76 il responsabile di fandango roberto gatto ha denunciato lì l'accaduto al commissariato di polizia diretto dal dottor borrelli si tratta dell'ennesima intimidazione contro il sacerdote schierato contro i clan lamettini al punto da avere il quartiere generale della sua comunità della sua comunità assistenza in un palazzo confiscato alla cosca d'orcasio nella casa appoggio del quartiere bella nord di lamezia vivono tre persone due delle quali siciliane un calabrese di villa san giovanni in passato l'abitazione è stata appunto di ritrovo anche per migranti e disoccupati in pratica una struttura d'accoglienza transitoria per chi è in difficoltà ripareremo il portone danneggiato dall'esplosione e ricominceremo a fare serenamente il nostro lavoro dice senza rendersi il sacerdote questa bomba è un gesto di qualcuno che non so perché si fa sentire per fare cosa si tratta di disturbi vedremo se è un'azione legata a un disegno o se è una sola brevata la polizia sta indagando e noi confidiamo nelle loro azioni investigativa roberto gatto responsabile della struttura le persone che in questo momento vivono nella casa di bella stanno seguendo dei progetti di recupero finora non ci sono stati mai problemi tra gli ospiti della struttura e gli abitanti del quartiere diversi anni fa l'abitazione è stata donata alla progetto sud dal proprietario che dopo aver partecipato ad un campo di lavoro della comunità rimase favorevolmente colpito dall'iniziativa dall'importanza chiedo scusa e dalla e dalla positività delle tante attività ed iniziative portate avanti da don giacomo e la sua squadra non è la prima volta che le strutture della progetto sud sono prese di mira due anni fa in un solo cinque mesi port spararono prima al vetro dello studio di don giacomo panizza poi la saracinesca del piano terra e scoppiò una bomba all'ingresso di un'altra struttura assistenziale sempre qui alla mezzia continuiamo con la cronaca sempre pagina 21 della gazzetta la guerra a giampato il casio il pentito in videoconferenza processo per seo e la mezzia interrogato per cinque ore dal pubblico ministerio elio romano articolo di vinizio leonetti gli avvocati giovanni scaramuzzina e giuseppe lucchino che aggiustavano gli incidenti stradali per truffare le assicurazioni e fare incassare i soldi al boss giampa la candidata al comune lamettina tiziana d'agosto anche lei avvocato che chiedeva voti al clan così come giampaolo bevilacqua ex capogruppo di forza italia la provincia catanzarese tutti i particolari che ieri in cinque ore di interrogatorio il pentito angelo torcasio ha raccontato al tribunale di la mezzia che sta giudicando 22 imputati accusati di associazione o concorso esterno con il clan giampa dell'operazione per seo nell'operazione per seo angelo torcasio il primo pentito di spessore della cosca ormai decimata sotto i colpi dei collaboratori di giustizia con torcasio adesso ci sono una quindicina di pentiti tra cui il boss giuseppe giampa ieri è stato interrogato dal pubblico ministerio il dottor elio romano il collaboratore parlava di in videoconferenza un sito riservato 31 anni da quasi 31 anni di età da quasi tre protetto dallo stato il pentito ha descritto tutto l'odio che aveva contro i torcasio suo clan familiare dove spesso ci si ammazzava tra parenti a lui avevano ucciso il fratello antonio prima di lui era stato ammazzato suo padre davanti agli occhi dei figli quando dovevo uccidere qualcuno ma vicino alle vittime c'erano mogli e figli rinunciavo a sparare aspettavo che fossero da sole ha confessato ieri candidamente il killer sono passato con i giampa per vendicare mio fratello ha dichiarato poi ha descritto la mattanza tra i clan giampa e torcasio cerra qualtieri dalla fine degli anni 90 al 2011 almeno una decina di omicidi non tralasciando rivelazioni sugli assetti della cosca giampa tra la vecchia guardia capeggiata da vincenzo buonaddio cognato del professore franesco giampa capo storico in galera da anni e il giovane rampollo ventenne del boss giuseppe giampa che qualche anno prima d'essere arrestato e pentirsi aveva preso in mano lo scettro di una delle più feroci cosche lamettine sempre dalla calabria pagina 20 donna pestata dall'ex compagno salvata da poliziotto fuori servizio un arresto a cedraro per tentata estorsione e lesioni gravissime la vittima ha poi rilevato rivelato le minacce di un secondo uomo per farla prostituire nella cronaca di catanzaro troviamo questa notizia di cronaca io non pago incendio il chiosco indagini lampo dei carabinieri decisivi i filmati delle telecamere in manette ad aranceto un 46 anni di etnia rom giovanni passalacqua dovrebbe essere processato per direttissima già questa mattina è accusato di incendio doloso a scopo estorsivo il 46 anni giovanni passalacqua arrestato all'alba di ieri dai carabinieri della stazione di lido diretti dal maresciallo antonio macri che hanno operato in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia della città di catanzaro guidati dal tenente michele massaro iniziativa della camera penale a catanzaro avvocati a confronto sul diritto alla difesa al salotto culturale anche la testimonianza del giudice scuteri passiamo alla cronaca di lamezia la guerra interna tra bonaddio e il giovane boss il pentito angelo torcasio in cinque ore racconta in aula uno spaccato della cosca che abbiamo già riportato dalle pagine regionali giubbino antiproietti le pistola sempre in casa 15 videocamere tanta voglia di vendetta la videoconferenza di angelo torcasio in regime di protezione ha testimoniato ieri al processo per seo nel tribunale di lamezia da una postazione nascosta articolo ancora di leonetti il professore diceva i torcasio morire non voleva la pace e mandava messaggi dal carcere di bologna dopo i colloqui con la moglie e i figli angelo torcasio il primo pentito della cosca giampasi stanca di raccontare la guerra di mafia solo dopo cinque ore di interrogatorio camicia bianca davanti a un microfono che non funziona granché è in una stanza asettica il collaboratore di giustizia viene invitato a ripetere in videoconferenza buona parte di quello che ha dichiarato nei suoi numerosi interrogatori degli ultimi tre anni la telecamera fissa l'inquadra solo la telecamera fissa l'inquadra solo di striscio ma tutti in aula sanno bene chi è cosa ha fatto nel clan e cosa è riuscito a combinare da quando collabora dentro i suoi racconti mezza città dai candidati che chiedevano voti ai clan ad avvocati e medici che facevano favore ai genpa fino ai al retroscena di tutti gli omicidi della guerra tra i clan di via del progresso e quello composto da famiglie torcasio cerragualtieri una vita bruciata quella di angelo torcasio prima a cucinare la porchetta che gli ha fatto guadagnare il soprannome poi l'ingresso nelle corte di giuseppe giampa figlio del bosso il professore il carcere in carcere da anni era il collettore delle mazzette raccolte nella zona di via del progresso alcune aziende dovevano pagare anche 20 mila euro per conquistare la tranquillità una vita blindata adesso che si trova in regime di protezione ma anche prima quando era organico alla cosca indossavo il giubbino antiproiettile avevo sempre una pistola in casa nascondevo kalashnikov e 357 magnum dentro e fuori avevo 15 videocamere piazzate nei punti chiave per controllare chi arrivava e che usciva in ogni momento e descrive le sue prospettive di quando raccoglieva il pizzo o carcere o morte omicidi a raffiche come quella dei kalashnikov ne parla al giudice in un'aula stracolma ma silenziosa ma il pubblico tra il pubblico tante ragazze parenti dei detenuti che ascoltano a tonite come se fosse l'ennesima puntata di squadra antimafia dice leonetti in una fiction scorre tanta vernice rossa la città invece in città invece c'è stato tanto sangue sulle strade quello vero ci sono altri processi per gli omicidi dei fratelli zagami di vincenzo torcasio carrà è cittadino e giuseppe chirico e tanti altri cadute nell'incredibile guerra di mafia lamettina ognuno nel cuore serva odio come quello che dice di avere ancora dentro angelo torcasio quando descrive come ammazzarono suo padre davanti al fratello e alla sorella e quando uccisero antonio il fratello che in mancanza del padre era il suo mentore esecuzioni maturate tra gli stessi torcasio che negli anni 90 organizzarono diverse spedizioni omicidiarie angelo ancora ventenne per vendicare il fratello ammazza i suoi parenti comincia con vincenzo torcasio il ciucciaro la pace diventa impossibile racconta il clan jannazzo di san biase voleva fare pace con i giampà ma hanno posto una condizione fare venire fuori la bara del imprenditore antonio perri è l'imprenditore lamettino dei supermercati ucciso nel 2003 marzo del 2003 dai torcasio che assoldarono un killer della locride dopo quattro anni la bara fu portata in via dalla cappella di famiglia secondo il pentito fu sempre la cosca di capizzaglia che aveva chiesto 5 milioni di euro ai familiari dei perri la salva fu ritrovata sottoterra alla periferia sud della città nel 2008 ma secondo angelo torcasio c'era anche un'altra ragione i perri avevano scelto gli jannazzo per la protezione abbandonando i torcasio i capi del clan di san biase avevano costruito un'alleanza con il giampà attraverso il boss della montagna rosario cappello oggi il pentito anche lui oggi pentito anche lui ma precedentemente licenziato dal boss giuseppe giampà che aveva assegnato tutti i ministeri ad un nuovo gruppo ad angelo torcasio andarono le deleghe alle finanze e agli esteri cioè il quartiere san biase e finisce qua l'articolo di leonetti su questa giornata di udienza sulle confessioni del collaboratore torcasio angelo ordini dal carcere il professore da bologna proclamò suo figlio ancora continua di spalla sulla gazzetta del sud a parlare del processo per seo si risveglia il racket delle estorsioni cinque intimidazioni nei negozi in una notte solidarietà a panizza e al progetto sud che abbiamo già riportato galati atti criminali che vanno condannati con fermezza dice l'onorevole galati vediamo un po' solidarietà e vicinanza al progetto sud e don giacomo panizza preoccupazione e rabbia per l'ordigno esploso davanti al portone d'ingresso di una struttura fandango e quanto afferma il deputato di forza italia l'onorevole pino galati l'esplosione di un ordigno avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a bella in un centro d'accoglienza per tossicodipendenti ex tossicodipendenti secondo il parlamentare berlusconiano nella manifestare la mia vicinanza e solidarietà alla comunità progetto sud e a don giacomo panizza il mio auspicio è che le forze inquirenti facciano piena luce su un episodio che colpisce una struttura dalle finalità esclusivamente sociali in quanto va incontro alle esigenze di persone che vivono momenti di difficoltà prestando loro accoglienza il sap approfondire indagini cambiamo ancora si parla ricordate l'ilsa dove lo scorso anno persero la vita tre giovani c'è un'indagine dopo la truffa all'unione europea da 11 milioni di euro c'è una relazione tra l'investimento e l'esplosione si chiede l'articolista di questa notizia sulla gazzetta quali provvedimenti intendano adottare per accertare i fatti e le eventuali responsabilità sulle due vicende l'ilsa approfondire le indagini Nesci di Movimento 5 Stelle sollecita i ministri e quanto ha chiesto la deputata Dallela Nesci del Movimento 5 Stelle in un'interrogazione ai ministri delle finanze dell'interno e del lavoro e della giustizia dopo l'arresto con l'ipotesi di truffa da 11 milioni all'unione europea dei titolari dell'ilsa di lamezia azienda di biogas il cui il 12 settembre dell'anno scorso si verificò un'esplosione che causò la morte di tre operai daniele gas barrone di latina alessandro panella di velletri di roma ed enrico amati di sinalunga siena titolari dell'azienda i fratelli maurizio roberto e salvatore martena di latina titolare della società il sap che con sede legale a velletri e uno stabilimento nell'area industriale la metina sono stati arrestati giovedì scorso dalla guardia di finanza di catanzaro per truffa all'unione europea e allo stato falsità ideologiche e abuso sono stati sottoposti all'obbligo di dimora inoltre un docente universitario di napoli e un consulente della società sono stati sequestrati conti correnti i quote societari per un capannone alla mezzia per un valore di 11 milioni di euro i provvedimenti restrittivi e i sequesti sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di velletri i tre fratelli arrestati operano nel settore della produzione di carburanti il docente universitario di napoli sottoposto all'obbligo di dimora e coinvolto nell'inchiesta in qualità di tecnico nominato dal ministero delle attività produttive per valutare la pratica relativa alla concessione dei fondi comunitari il consulente tecnico invece aveva il ruolo di intermediario tra la società e il ministero che doveva erogare i contributi pubblici ancora cronaca di la mezzia ieri in centinaia gli studenti in piazza siamo su via costanzo ex via aldomoro la riforma renzi giannini affossa la scuola pubblica furiosi gli insegnanti i presidi potranno scegliere i docenti senza tenere in considerazione le gradatorie e il merito anche in città una nutrita rappresentanza di studenti ha manifestato contro la proposta di riforma della scuola elaborata dal governo renzi in linea con molte scuole d'italia il serpentone colorato di ragazzi e striscioni ha attraversato le principali vie del centro per poi confluire su corso nomistrano dove i cori e gli slogan si sono fatti ancora più forti e incessanti a manifestare insieme agli studenti anche una delegazione dei docenti autoconvocati lametini e il sindacato usb scuola tutti infelociti studenti professori contro la riforma renzi giannini che affossa la scuola pubblica e che non premia il merito ma consente ai presidi di scegliere personalmente i docenti senza tenere conto delle gradatorie secondo gli insegnanti tutto ciò favorerebbe un clientelismo sfrenato verrebbero scelti gli insegnanti amici mentre quelli che attendono da anni di poter avere una vera realizzazione professionale resterebbero esclusi e si vedrebbero superati dagli ultimi arrivati i professori contestano il fatto che si voglia ancora prorogare il blocco degli stipendi e che si vogliano abolire gli scatti d'anzianità tale proposito non va giù nemmeno il fatto che all'interno di ogni istituto ci sarà un nucleo di valutazione a cui spetterà di decidere se un docente è stato bravo e quindi potrà avere l'aumento di 60 euro o se l'insegnante è stato cattivo e dunque dovrà restare al palo con lo stipendio fermo a studenti e professori non piace che nella scuola entrino capitali privati e che il dirigente diventi un super manager gestendo negli istituti professionali in particolare la formazione degli alunni in collaborazione con le aziende tutto ciò hanno urlato a docenti e studenti in corteo vuol dire delegare alle aziende il compito di formare e istruire significa svilire e sminuire la scuola che da sempre a questo ruolo preciso c'è un errore di stampa il binomio scuola azienda per i docenti che manifestavano ieri in piazza significa creare ed utilizzare manovalanza a basso costo altro bocconi amaro che gli insegnanti non riescono proprio a mandare giù è quello dell'organico funzionale di rete in base al quale ogni docente potrà essere prestato da una scuola all'altra inoltre la riforma renzi giannini prevede anche la banca delle ore per cui ogni docente sarà tenuto a fare lezione a costo zero per sostituire i colleghi assenti una disposizione che praticamente farà letteralmente sparire la figura ufficiale del supplente andiamo ancora sulla scuola ma stavolta si parla di lavori presso l'istituto in Audi il professionale per il commercio di via cristoforo di via leonardo da vinci prevista una spesa compressiva di 610 mila euro la provincia ha appaltato i lavori il professionale in Audi sarà ampliato l'amministrazione provinciale di catanzaro ha appaltato i lavori di ampliamento dell'istituto scolastico in Audi sono state infatti avviate le procedure di gara sulla scorta del progetto approvato in passato il progetto e poi adeguato alle nuove normative antisismiche l'investimento complessivo per lente di palazzo di vetro ammonta a 700 mila euro mediante mutuo contratto con la cassa depositi e prestiti e per l'affidamento dei lavori si è scelta la strada della procedura aperta con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte automatiche e anomale chiedo scusa i lavori a base d'asta che saranno soggetti al ribasso ammontano ad oltre 610 mila euro il progetto prevede la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica diacente a quello ubicato a sud dell'abitato di nicastro e sarà realizzato con una struttura telaio pilastri e travi in calcestruzzo armato elevata ad un piano fuori terra in un in un'area prospicente a via michelangelo la superficie complessiva in ampliamento sarà di circa 600 metri quadrati e sono previste soluzioni progettuali classiche ma anche la realizzazione di tre portici in acciaio tra i quali quello centrale avrà una copertura in plexigas sarà predisposto un impianto di climatizzazione ed impianto elettrico e l'impianto elettrico sarà realizzato per l'alimentazione delle cucine didattiche il commissario straordinario bandaferro ringrazia gli uffici della provincia per aver ottemperato l'ultimo impegno relativo ai mutui contratti durante la legislatura è un motivo di grande soddisfazione aver potuto appaltare l'ultimo dei progetti già in cantiere per i quali avevamo reperito le risorse ha detto la bandaferro questo ennesimo risultato ci consente di risolvere un problema molto sentito all'interno dell'istituto di ampliare gli spazi destinati ad una scuola in crescita e di dare ancora una risposta nel territorio lametino ogni tanto quando a ferro si ricorda di noi ieri consiglio comunale al palazzo di città dell'ex comune di nicastro il piano di riequilibrio passa maggioranza l'opposizione chiede il fondo di rotazione abbandona i lavori ad esporre lo strumento finanziario è stato l'esperto francesco consiglio seduta calda ieri nell'aula ieri sono rimasti soltanto i consiglieri della maggioranza discusso tra liti e insulti il piano decennale di riequilibrio elaborato dal comune per ripristinare la deficitaria situazione economico finanziaria dell'ente il piano licenziato dalla giunta e dalla commissione consigliare bilancia ha ottenuto 13 voti favorevoli e i pareri contrari dei udici e la mezzia indipendente primo del voto hanno lasciato l'aula i consiglieri di forza italia e del gruppo misto a spiegare il piano nel dettaglio è stato francesco consiglio dirigente del comune di rosarno che ha supportato gli uffici comunali nella stesura del programma decennale al 31 dicembre scorso appuntualizzato il comune vantava crediti di 126 milioni per 126 milioni di euro mentre i debiti ammontavano a 136 milioni situazione migliorata perché l'ente ha saldato 34 milioni di euro di debito e ha registrato 12 milioni di entrate consiglio ribadito sono stati costruiti gli equilibri di bilancio per il periodo 2014-2023 alla fine dei dieci anni avremo generato un flusso di 25 milioni di euro che consentiranno all'ente di riattivarsi chirumbolo di forza italia ha dichiarato la situazione è di predissesto perché non abbiamo chiesto l'accesso al fondo di rotazione come stanno facendo agli altri comuni in difficoltà in tutta l'italia si chiedeva in consiglio avremmo potuto ottenere dei fondi dello stato per ridare ossigeno all'economia cittadina il consigliere azzurro ha presentato un emendamento rigettato dall'assemblea per massimo cristiano del gruppo misto il settore finanziario dell'ente e commissariato si stanno applicando tutte le misure previste dal testo unico per i comuni in dissesto e si sta limitando alla sovranità delle prossime amministrazioni chirumbolo e cristiano dopo il voto sull'emendamento hanno intavolato una forte polemica col sindaco e col presidente dell'assemblea grandinetti entrambi hanno lasciato la sala consigliare furibondo alla risposta del sindaco speranza stiamo ricevendo offese continue sulla situazione finanziaria dell'ente ancora una volta sono state dette bugie per alimentare un clima terribile di veleni e calugne che stanno che sta creando grande sofferenza nella comunità lametina la corte dei conti ci ha fatto le pulci su tutto ma non su le spese né tantomeno sui compensi dei dirigenti lavoro in corso sulla spiaggia di falerna si corre ai ripari per arginare la continua erosione costiera ogni anno soprattutto durante la stagione invernale il mare si riprende ciò che la mano dell'uomo ha sottratto in corso il lavoro di sistemazione dello sbocco del noce a falerna poi giornate bellissime la gente può approfittare di andare ancora al mare il canale noce attraversa l'abitato di falerna marina passando sotto il lungomare un problema serio davvero l'erosione spiagge nella zona di falerna ce n'è pochissimo davvero come bisogna comportarsi in caso di calamità naturale si è svolta monta santa lucia ha il piano di protezione civile individuati i luoghi di raccolta dove i cittadini devono recarsi prosciolti abbiamo notizia tre amministratori credo sia di natrella l'articolo anche l'ex sindaco di decollatura mario perri è stato prosciolto erano stati accusati di appropriazione in debita quattro anni fa mario perri e l'ex sindaco di decollatura prosciolto insieme ad altri due ex assessori poi san pietra mai da breve sarà desistemata l'intera rete fognaria è settimana dedicata alla famiglia organizzata dal movimento apostolico a ferroletto andiamo a vedere un attimo questa notizia degli amici del movimento saranno coinvolte anche le parrocchie della diocesi la metina settimana dedicata alla famiglia vediamo un po' riporto così sì ferroletto antico siamo vicinissimi alla mezza luci e ombre attese e preoccupazioni gravi problemi e solide speranze ritraggono la realtà familiare di oggi mai infatti come in questo secolo la famiglia è stata investita da tante minacce aggressioni e erosioni ma in pari tempo mai come in questo secolo si è venuto incontro alla famiglia con tanti aiuti in particolare c'è un errore di stampa sul piano ecclesiale ne è una prova il sinodo straordinario dei vescovi sulle sfide pastorali sulla famiglia nel contesto delle evangelizzazioni aperto il 5 ottobre a roma anche le parrocchie famiglia di famiglie con le loro iniziative pastorali mirate a sostegno della famiglia cristiana donano un grande contributo all'evangelizzazione svolta a far rafforzare le convinzioni dei cristiani c'era circa la famiglia e tra le diverse iniziative pastorali in parrocchiale significative quella promossa dai fedeli e dai responsabili del movimento apostolico della parrocchia santa maria macolata di accario in vista dei festeggiamenti in onore di san giovanni paolo secondo il papa della famiglia il 22 ottobre nel santuario a lui dedicato nella frazione di cardolo di ferroleto antico per otto giorni si terranno momenti di riflessione sulla famiglia e di preghiera con e per le famiglie delle diverse realtà ecclesiale diocesane che si confronteranno su vari temi martedì 14 ottobre su famiglia eterno disegno d'amore il 15 ottobre matrimonio segno efficace della presenza di cristo il 16 ottobre l'indissolubilità del matrimonio bene della famiglia e dell'umanità il 17 ottobre famiglia piccola chiesa domestica il 18 ottobre matrimonio un'alleanza vissuta nell'unità e nella fedeltà domenica 19 ottobre famiglia tempio della vita lunedì 20 ottobre famiglia grande laboratorio di amore martedì 21 ottobre la famiglia che prega unita resta unita mercoledì 22 solennità di san giovanni paolo secondo il calendario dei vari momenti di riflessione e di preghiera seguono il seguente orario alle 17 30 confessione alle 18 le preghiere del santo rosario animata dalle famiglie alle 18 e 30 celebrazione eucaristica la santa messa abbiamo dato spazio anche a questa notizia ecclesiale cronaca passiamo e notizie passiamo alla sport calcio lega pro una vigor senza complessi domani c'è il derby col catanzaro il presidente claudio arpaia pesante all'assenza di del sante il derby arriva in un momento giusto siamo in una scia positiva giochiamo in casa e c'è tanta voglia di fare bene lancia la sfida il presidente della vigor la mezza arpaia per il match con il catanzaro di domani pomeriggio alle 15 al dipolo della squadra ha proseguito il massimo dirigente carica motivata e carica motivata e serena come sempre gode di un buon momento e di un ottimo stato di forma nel team lamettino quindi non c'è timore semmai ottimismo sebbene l'avversario sia stato costruito per arrivare in alto e in queste prime giornate non ha deluso le attese quanto dice claudio arpaia il catanzaro ha detto sempre presidente a una rosa competitiva che può vincere il campionato noi puntiamo a mantenere la categoria ma è chiaro che qualsiasi cosa verrà di più ce la prenderemo la gara pertanto per il sodalizio di via marconi potrebbe essere un primo spartiacque stagionale battendo il catanzaro la vigor la mezza potrebbe rivedere il proprio obiettivo come si sol dire dichiarato arpaia l'appetito viene mangiando ed è normale che ci se ci dovessimo trovare in alto ragioneremo per quello che sarebbe il nostro status inutile tuttavia illudersi che battendo il catanzaro conquisteremo la promozione ma conquisteremo solamente tre punti fondamentali per arrivare alla meta del salvezza la partita comunque si presenta problematica per i biancoverdi che dovranno rinunciare al bomber del sante squalificato l'assenza del nostro attaccante ha commentato arpaia è pesante e bensì sono convinto che chi lo studierà darà come sempre il massimo si soppererà pure con la voglia di non farlo rimpiangere claudio arpaia confida anche nel dipolito che sarà gremito lo stadio sarà il dodicesimo uomo in campo mi affido veramente alla forza dei tifosi per spingere la palla in rete soltanto con l'apporto del calore dei nostri supporters possiamo portare a casa un risultato importante da soli non si va da nessuna parte in questa occasione poi ci sarà il pianone i biglietti sono quasi tutti venduti come non succedeva da anni l'entusiasmo del pubblico potrebbe essere la nostra arma vincente il massimo dirigente è al primo vigor catanzaro di campionato non di coppa visto che si è giocato l'anno scorso al ceravolo 2-1 per i gelorossi e nemmeno al primo derby in assoluto in campionato considerato che nella passata stagione c'è stato vigor cosenza ma questo ha terminato arpaia è un derby classico che sento più rispetto a quello con il cosenza anche se entrambi sono su livelli altissimi un po' meno il cosenza quest'anno come attesa voglio di giocarlo e viverlo quello che con il catanzaro però ha un qualcosa in più i biglietti sono quasi terminati ieri alla mezza i tagliandi venduti si sono attestati all'incirca 3.000 esaurita la tribuna coperta disponibili qualche centinaia di biglietti per la gradinata est finiti anche i 640 tagliandi riservati agli ospiti che si accomoderanno in curva sud peccato per la curva nord che ancora credo che la polizia di stato non dia ancora le garanzie di sicurezza perché manca qualcosa per proteggere il pullman ospite ma questa cosa potrebbe essere sorpassata se il pullman la polizia potrebbe farlo allontanare dallo stadio dopo aver fatto scendere i giocatori questo è un problema davvero la curva nord chiusa è davvero un problema per noi lamettini che andiamo allo stadio velocemente al quotidiano della calabria che si sofferma molto sulla politica regionale il pd ha ritrovato la sua unità mario oliverio staglia il nastro della sua segreteria insieme a magorno e all'anima renziana del partito ieri alla mezza terme scalo ex santo femmia si lavora alla costruzione delle liste trasparenza e legalità i primi obiettivi quindi la sede si trova nell'ex comune di santo femmia alla mezza terme la chiamo scalo perché c'è l'aeroporto c'è l'autostrada c'è la stazione centrale quindi è giusto definirla la mezza terme scalo non più santo femmia in terra dei valori nell'alveo del centro sinistra il segretario nazionale messina ha tracciato il percorso ancora poi cantiere aperto centro destra ancora alla ricerca dell'accordo globale quagliarello matteo le gentile si ritroveranno la prossima settimana dentro l'udc si agitano due anime spetterà accesa l'ultima parola sulla coalizione ancora per le elezioni regionali non c'è accordo si torna in aula non ci sono i soldi verso il voto la giunta regionale delibera un milione di euro dal fondo di riserva per le elezioni regionali ecco l'esecutivo invita l'assise ad approvare le variazioni di bilancio per coprire le spese se si torna in aula dice il titolone qua su questa pagina 7 stabilità anche una loro riduzione stretta sui vitalizi dai consiglieri regionali la soglia anagrafica si alza fino a 65 anni poi il retroscena fondi conflitto fra i due palazzi Franco Talarico e Antonella Stasi nelle foto altro che variazione di bilancio per trovare i fondi utili a coprire le spese del materiale elettorale agli straordinari dei dipendenti delle prefetture necessari per il ritorno al voto in Calabria se la giunta regionale vuole può firmare una delibera di debiti fuori bilancio motivandolo davanti alla corte dei conti passando l'incombenza di riconoscerlo dal prossimo esecutivo calabrese l'ultima follia di questa strampalata nona legislatura nasconde un conflitto tra Palazzo Campanella e Palazzo Alemanni e quindi sul coloro sul coloro sul coloro qua c'è un errore di stampa che ne detengono le chiavi il presidente del consiglio regionale Talarico quella facente funzione della giunta Antonella Stasi per non abbandonare gli emo danneggiati tagli a politiche ambientali e della famiglia è dura fare i conti con le listatezze di casa passiamo alla cronaca della Messia perché sono quasi le stesse notizie della Gazzetta andiamo alla Sport Calcio Lega Pro torna il derby fra Vigore e Catanzaro articolo di rettura gara da Spartiacque per i gelerosi tutti disponibili in maglia noi sereni non abbiamo nulla da perdere domani al dipolo si va verso il tutto esaurito venduti 640 biglietti per gli ospiti in attacco in quattro si giocano tre posti rientra Fofanà dal primo come prima punta l'attaccante Fofanà sarà in campo dal primo minuto dice l'articolista Antonio Ciampa erra le prese con il dubbio Puccio, Catalano o Held al posto di Del Sante c'è anche l'ex Montella della Vigor Lamezi ex di turno del Catanzaro andiamo e chiudiamo qua le notizie c'era un Emanuele Giacoya che dava il suo contributo giornalistico a Vigor Catanzaro andiamo a vederlo un attimo Calci nostri di Emanuele Giacoya Vigor Catanzaro il piatto ghiotto il fine settimana delle Calabresi oggi Regina e Cosenza in attesa dell'ora solare l'ultima domenica di ottobre obbediamo alla Latina More Solito al calendario e agli orari imposti dalla Lega procedendo rassegnati menù il derby domani tra Vigor e Catanzaro un ghiotto piatto del giorno il Catanzaro va a pochi passi da casa ma non ci sarà aria casalinghe via con i soliti dubbi degli allenatori chi tra i coach non ne ha Erra non ha a disposizione l'attaccante Del Sante e forse nemmeno Puccio ma sicuramente qualcosa tirerà fuori dal cappello la Vigor Lamezi sottolinea il suo tecnico difficilmente sbaglia ci dichiariamo pentiti di fare sempre battute sull'allenatore Lametino e i gelorossi si sono allenati bene e dovrebbero essere al top soprattutto l'attesissimo Camarà il senegalese Giramondo accolto come il messia al suo arrivo chi vincerà? perdonateci ma con il cavolo che formuliamo pronostici il tutto va dall'insegna che vinca il migliore la regina intanto va oggi a Matera in una delle squadre pretendenti all'assalto di categoria dove si giocherà uno del calar del sole un Matera che raccoglie punti e consensi Cozza giustamente mette in guardia suoi rientra Camilleri che non è certo l'autore di Montalbano è con lui dall'olio insomma nessun problema di formazione naturalmente basta azzeccarla i nostri lupi del Cosenza sono al San Vito con la Paganese implorando il santo protettore dello stadio di favorirli e raddrizzare così una classica decisamente anemica poi alla nona giornata si penserà al Matera posto regina c'è l'arrivo di Caccetta dal Trapani mentre in società si dice che in questi ultimi giorni tutto va bene madama la Marchesa ma non dimentichiamo la B col crotone che incontra in casa il Pescara per questo incontro i giornali sottolineo la sfida fraterna tra i gemelli Zampano Marco Pedina importante per Drago Francesco per gli Attici i due si saluteranno a fine partita hanno detto e niente abbracci prima del fischio ed inizio i soliti dubbi intanto anche per Drago la classica è alla pari e Scarna per ambe due il tecnico rosso-blu si affida alla tattica del tifo più caldo di questo sole ottobrino concludiamo qua con questo articolo di Emanuele Giacoglia lo ricordiamo tutti ex giornalista Rai che faceva molto bene il novantesimo minuto e noi ci riascolteremo alle prossime letture dei giornali buon pomeriggio di Emanuele di Emanuele l'eva a di Emanuele a dì che faceva